ola sono qui con la mamma loffa fai vedere che sei gioiosa perché sto per mostrarvi questa bellissima parrucca come mi stava bene 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 si sembri una pop è l'olipop cosa vuol dire betty boo ma sei betty boo poi capelli corti e neri ah questa è sailor moon sailor moon è bellissimo ma soprattutto vorrei vedere questo sailor cool sailor cool sailor cool e poi attenzione all'agilitude queste qua queste qua che praticamente dovrebbero essere il numero 39 ma mi escono tutte le facchi indita di fuori ma perché c'è il piede stretto e lungo e insomma sto sito cinese che non mi ricordo ma mi ha mandato questa che tra l'altro guardate che figata si sganciano non è bellissima sta cosa vediamo dove sta senza madonna sembra orietta berti vabbè orietta berti no orietta berti è figa ma dai prenditi l'orecchio così almeno ecco ma che bella che bella bambina che hai fatto che bella bambina madonna santa e ma soprattutto provavi a vedere una cosa bellissima che è questo che acchiappa perete che dovrebbe essere un sofà gonfiabile ma non a fiato a scureggia no no a scureggia così muovendo le braccia così e se dovrebbero riempire dai ora vi metto un filmato di come dovrebbe essere quindi ora proviamo a vedere perché io ancora non ho capito come funziona e ora proviamo eeeh voilà uguale come prima eh ma cosa è la chiappa fantasia perché vedete dentro ha la pellicolina e dovrebbe inglobare aria dovrebbe ecco lì la telecamera a terra ecco ecco ora dovrebbe dovrebbe far tutto dovrebbe essere gonfiato a questo punto si rotola qui rotola e praticamente ci ha fatto l'ettino gonfiato beh 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 che forse sono a cosa l'ho fatta ma ce l'hai fatta a fare cosa? a gonfiarlo ma lo vedi che motion salutiamo Dani ma è mollo come uno yogurt appunto salutiamo Dani ma questo non è quello a fare lì ma dove l'ha trovato? ma chi è che si è lamentata a stasare qua? tac e la fregna è pronta e ora la proviamo ora la proviamo praticamente ci si sprofonda dentro allora si fa male sta a vedere aspetta eh sta a vedere io non ti vengo a tirare su te lo dico e mi lasci lì agonizzante eh sì eh aiuto sto uscendo da una fregna però ce l'ho fatta praticamente siamo un canotto in alto mare sgompio che bello smokey in the big day sembra una di quelle gangsta non mi nasceva puoi simulare il parto per favore no che male ah oh dio mio si può fare qualcosa per rimutarla dentro il problema è perciò puoi agire come sei giù brafani fannani per farmi fannani va benissimo per fare bene no ma sai che devo dire la verità è comoderrimo allora è comoderrimo allora rimanici sì infatti intanto ci rimango perché non mi riesco più adesso allora sei così fino a domani che bello che bellitude sta andando il video ora mi stiamo ancora là sì sta andando mi piace tantissimo e poi c'è anche il cupolino e poi c'è anche il cupolino qua che si mette fino a qui che non l'ho messo perché non ne ho voglia e ti ripara dal sole ma che meraviglia per proteggermi dal sole per proteggermi dal sole come Gaia la papai oltre a qui non ci sono che non sono non mi piace tantissimo come te la conosci no non la conosco si però sì aria guai prima lo prendi poi lo dai giù dalla costa anche te la conosci? no non la conosco chi è? Emanue Castro com'è ma il c***o? figo ma com'è il c***o? ciao Emanueel ciao Imma guarda che si fai male madonna guarda che si fai male madonna è un tuo cavallone un cavallone un cavallone oh guarda un po' dai dai ma ti sembra normale madonna senta che ti fai male ma ci fai male ma se ci fossero le onde e comunque io l'ho fa prova vedete io un po' mi incattavo perchè? perchè vedo che sei stata in circolta a me piace carino ora guarda quasi quasi mi ci butto ma si è già sminchiato si è già sminchiato guarda un po' sta sboffiandosi sei già mosciato ma che m***a ma che m***a cioè praticamente fatto quello è finita lì finita la sua prestazione e invece se li metto così guarda cioè dovete metti i gompia un po' poi dopo guarda odio c***a bello è proprio per farsi venire il vomito per andare a vomitare è comodo però guarda sei lì quando puoi trigalzare? poi se qualcuno ti ondeggia un po' però penso se fossi in mano un pochettino agitato ti capovogli ma non è da amare è da odiare no da amare che forte che è ho detto il nome che forte che è ho detto il nome dove vedete il beatman no comunque mi piace che bello eh? si ti cagerei nell'occhio destro ancora così mi sono tutte e due che foggia comunque adesso devo trovarmi su per spegnere io non ti aiuto lo fa provere se fosse stata da sola cosa avresti fatto? fa così guarda guarda oh pelan libido madonna ci spacca l'anca fa così guarda guarda oh pelan libido madonna ci spacca l'anca si spacca l'anca ah ho capito l'anca l'anca oh per una settimana basta esercizi si chiama sofa 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 no sofa 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 comunque io direi anche basta ma è stato impegnoso quello che l'hai inventato questo è tutto ciao da Lofine da mamma Lofa saluta ciao cosa?